Vorrei intanto davvero ringraziare moltissimo il Comune per aver deciso di ospitare in questo luogo che è carissimo a tutti quanti, noi bolognesi, una mostra così importante. Poi in questi casi si rischia la banalità di ripetere cose già dette in modo molto brillante, quindi io mi limito proprio all'essenziale. Del resto i nostri rapporti sono tali per cui con Sevenini ci si incontra tutte le mattine verso le 8 meno un quarto e ci si scambiano opinioni molto frequentemente anche sugli appuntamenti che stanno dentro l'agenda sindacale, capita anche di chiedere qualche volta un punto di vista di come si sarebbe magari fatto in un'altra epoca a gestire questo o quell'altro problema. Io vorrei fare due sottolineature, la prima è quella che richiamava il professore prima di me. Tutto sommato noi oggi ce la possiamo giocare una partita anche perché prima di noi si sono realizzati degli avanzamenti straordinari, a un prezzo straordinario con dei sacrifici straordinari e con tutta probabilità senza quei sacrifici noi oggi non saremo nella condizione nella quale siamo. Questa è una delle ragioni per le quali abbiamo cercato in qualunque occasione di favorire anche una trasmissione della memoria che purtroppo nel tempo attuale, che è il tempo della quotidianità, si tende a smarrire. Abbiamo cercato di favorire, di promuovere l'intervento dell'associazione nelle scuole perché talvolta alcuni racconti sembrano un po' delle favole, soprattutto per le nuove generazioni. Non si ha la contezza davvero di quali sono le storie e le situazioni dalle quali tutti quanti si proviene. Un'altra cosa che volevo sottolineare è questa, non dico niente sulla dignità con la quale ancora oggi Cevenini ha, facendo quel discorso, raccontato alcuni brandelli di una storia collettiva di quella durezza. Però c'è un punto che vorrei riprendere, perché anche Cevenini quando fa quella presentazione usa una formula che mi è già capitato più volte di sottolineargli che andrebbe corretta e quindi approfitto anche di questa occasione. Quando parla dello statuto dei lavoratori, di come ci si è arrivati e tralascia nel titolo lo statuto dei diritti dei lavoratori e io glielo ricordo perché è uno dei concetti che lui mi ha spiegato tante volte nel passato perché si volle chiamare appositamente lo statuto dei diritti dei lavoratori per dargli appunto quella valenza politica che ci ricordava Ghezzi nel suo intervento e cioè una relazione diretta, un trascinamento diretto con i principi della Costituzione che richiamano i principi del valore del lavoro, della dignità dei lavoratori e questo a mio parere è un punto che non va mai dimenticato e che anzi va sottolineato con molta forza soprattutto in una fase come quella attuale nella quale noi assistiamo sistematicamente a un tentativo di fare compiere dei paurosi passi indietro alle conquiste che si sono realizzate, il che costituisce un'offesa per le condizioni materiali delle persone di oggi che lavorano ma costituisce una doppia offesa per chi ha fatto quei sacrifici che hanno consentito di arrivare a quei risultati. Ecco detto questo io mi fermo perché penso che non sia il caso di aggiungere altre considerazioni credo che questa iniziativa abbia un carattere assolutamente meritorio e voglio ringraziare soprattutto loro che hanno una pazienza che davvero non finisce mai di stupirci a noi perché hanno ancora questa caratteristica di ragazzini di grande entusiasmo che non li trattiene nessuno appunto e che continuano a dare una continuità importantissima alla memoria diciamo di questa storia importantissima. Grazie. Grazie. Un anno e mezzo fa Cevenini al nostro congresso commosse una platea di delegati giovani abbiamo distribuito la costituzione negata ai nostri delegati abbiamo proiettato in diverse fabbriche e abbiamo regalato ai delegati i filmati che sono stati prodotti. Io penso che faccia bene anche questa sera ricordare quei tempi e ovviamente prendere da quei momenti anche gli spunti per affrontare il futuro. Io però devo essere sincero, quelle conquiste che questi compagni anche col sangue hanno fatto le conquiste che la mia generazione ha avuto in dote nel Novecento oggi sono scomparse dobbiamo essere onesti e allora io penso che a volte quando si riporta a un giovane questi filmati, questi racconti, queste testimonianze beh non ci dobbiamo aspettare molto di più perché il giovane oggi è messo in una situazione davvero difficile di precarietà permanente e se non viene licenziato perché si iscrive al sindacato spesso non viene confermato che è la stessa cosa. Quindi io penso davvero che valga la pena riprendere e continuare questi questi riferimenti a quegli anni, agli anni della Ducati che ancora oggi lottiamo per mantenerla agli anni della Calzoni dove molti iscritti FIOM erano licenziati. Però devo dire che oggi c'è un salto indietro. La Costituzione viene negata anche oggi. Avete lottato per un contratto nazionale di lavoro e oggi si prevede deroghe al contratto nazionale di lavoro azienda per azienda vuol dire che il contratto nazionale di lavoro quando un padrone lo può evadere vuol dire che non c'è più. Abbiamo lottato e stiamo lottando anche per andare avanti perché ognuno di noi possa scegliere i propri parlamentari di fronte a una legge elettorale iniqua. Abbiamo lottato per in qualche modo spingere a un cambiamento di fronte a un'Italia che sta finendo molto male. E però ancora oggi di fronte all'azione sindacale viene negato il voto dei lavoratori sugli accordi. E questo io credo che sia un fatto inammissibile. Oggi ovviamente se uno volesse parlare di democrazia di Costituzione prima di tutto dovrebbe dire che in fabbrica oggi ancora la democrazia è negata anche con gli accordi che si fanno. È evidente che siamo in una situazione dove in qualche modo le cose che diceva Ghezzi sembrano attuali anche se vissute in modo diverso. Allora i metallmeccanici, gli elettromeccanici a Milano partirono con una grande manifestazione per riconquistare il contratto nazionale di lavoro. Oggi i metallmeccanici rispetto a quello che sta succedendo alla Fiat che nega i diritti di libertà e di democrazia vengono visti quasi in qualche modo dai ben pensanti del mondo cosiddetto democratico come disturbatori di questa situazione. Noi siamo di fronte a una situazione dove la crisi che deve essere risolta e che lo sviluppo, come diceva Ghezzi, deve andare pari pari ai diritti oggi invece si fa pagare questa crisi in alternativa ai diritti. Quello che sta succedendo sulla manovra finanziaria è scandaloso, si colpisce ancora pensionati e lavoratori, si chiede di essere responsabili a persone che sono in cassa integrazione a 800 euro al mese a 1000 euro al mese e questo credo che sia profondamente ingiusto. Allora quello che sta facendo la FIOM nei tribunali contro la Fiat per chiedere il voto dei lavoratori quello che cerca di fare nella battaglia che fa è per ridare fiato e in qualche modo ci abbiamo messo anche noi a quel movimento che si è espresso nel referendum nelle elezioni amministrative di fronte a un Parlamento io voglio essere chiaro perché la penso così che non rappresenta più il Paese perché non abbiamo più un Parlamento dove vai a trovare un operaio, un impiegato bisogna essere notari o commercianti e allora si capisce perché con quelle persone probabilmente i problemi delle persone che lavorano non vengono capiti se allora ci fosse stato un Parlamento così forse non venivano capiti nemmeno i vostri problemi. grazie grazie Grazie.